... Durante i posti di controllo predisposti in tutta la provincia di Torino per verificare il rispetto delle direttive su restrizione e mobilità, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato in corso Botticelli un italiano di 28 anni di Mappano. Nel bagagliaio e tra i sedili posteriori della macchina sono stati sequestrati 13 sacchi termosaldati contenenti infiorescenze di marijuana. 620 euro in contanti e la disponibilità di un manganello telescopico. La perquisizione domiciliare nell'abitazione di residenza ha consentito di rinvenire ulteriori 3 sacchi della medesima sostanza per un totale di circa 16 chili e bilancino di precisione, sostanza sequestrata, arrestato e sottoposto ai domiciliari. Grazie a tutti!